Il tifoso non è riconducibile, almeno nell'ultimo quarto di secolo, non c'è un'altra partita in cui la Ternana abbia subito sei gol in casa e purtroppo oggi è successo, inutile star qui a valutare questi 90 minuti, sono gli ultimi 90 minuti, quindi è la classifica finale che in qualche maniera dà il senso e la dimensione della prestazione della squadra rosso-verde, ora l'auspicio è che con questa brutta pagina finale si possa chiudere un ciclo che ha dato certo soddisfazioni, ma ha dato anche diverse delusioni, soprattutto ha creato rabbia, rabbia perché immaginavamo che le condizioni per poter far bene ci fossero tutte, poi è successo qualcosa, si è rotto come si usa dire il giocattolo e non si è riusciti a rimettere assieme i pezzi, il risultato è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi, inutile mi pare, lo dico alla regia, inutile mi pare continuare così a stare a vedere questa caporetto della squadra rosso-verde.